Il coronavirus non molla, tre vittime, Montemitro ricorda Giorgetta, sette ricoveri in malattie infettive, un paziente trasferito in rianimazione e positività al 7,8% a Molise Regione che ha attivato più volte la cross nella seconda ondata. Lema dà il via libera al vaccino a AstraZeneca, sicuri ed efficaci, rischi minori dei benefici, cabina di regia molisana subito al lavoro per riprendere la somministrazione delle dosi inglesi. Federico, ora accelerare il piano vaccinale Fismu, sia solo il governo a gestire la campagna. Tutto nazionale, bandiere a mezz'asta per le vittime del Covid, celebrazioni in tutta la penisola. A Campobasso il sindaco Gravina sottolinea l'importanza dell'evento. Il comitato vittime, oggi ci sentiamo meno soli. Giuseppina Mucilli, nonnina di 107 anni, vaccinata a domicilio dai sanitari dei carabinieri. Storia a lieto fine, tele-regione ha messo in contatto l'arma con la famiglia. I tamponi prelevati oggi verranno sequenziati in Molise. I risultati giovedì o venerdì prossimo avremo una fotografia puntuale della situazione in regione. Le parole della responsabile della microbiologia del Cardarelli, Massimiliano Scutellà. Infine lo sport, il calcio di serie D, Daniela Mancinelli, nuovo componente del CDA del Campobasso, si presenta a tele-regione. Intanto Codini può contare sui giovani molisani, sugli scudi, Lisernino Mancini, classe 2003. Buonasera, ben trovati con la nostra informazione. In apertura c'è il coronavirus, c'è l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale. Ancora vittime tre nelle ultime ore, quattro se si considera anche il decesso del 16 di marzo, ma il tasso di positività scende al 7,8%. Ci sono anche sette ricoveri in malattie infettive. E infine un altro dato, il Molise, è la regione che più di tutte ha utilizzato la CROS nella seconda fase della pandemia. Sentite. Tre nuove vittime, quattro se si considera il 57enne morto a Campobasso il 16 marzo e di cui già ci siamo occupati. Rientra nell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale insieme ad un 78enne di Santa Croce di Magliano, deceduto al Santimoteo, una 75enne del capologo di regione ricoverata in malattie infettive ed un 72enne di Montemitro, Franco Giorgetta, padre di Paola, ragazza con sindrome di Down, campionessa di nuoto con una medaglia d'oro ed una di bronzo agli Special Olympics mondiali di Los Angeles. Una persona di grandi valori, sempre preparato, propositivo, disponibile, educato, coraggioso, il ricordo di Giuliano Gian Michele, presidente dell'associazione regionale Down Abruzzo di cui Giorgetta era socio. 415 le vittime del coronavirus, mentre scende al 7,8% il tasso di positività per effetto dei 40 contagi su 511 tamponi refertati, 6 contagi a Toro, altrettanti a Santa Croce di Magliano, un paziente trasferito in rianimazione, 7 nuovi ricoveri in malattie infettive, un dimesso. Nelle parti covid ci sono 107 ad agenti, 77 al Cardarelli, 10 in terapia intensiva, 20 al Santimoteo, 1 al Gemelli, 9 al Neuromed, 49 i guariti, 1.428 i casi attualmente positivi, 3.608 i soggetti in isolamento. Intanto a certificare, ma non ce n'era bisogno, che il Molise non riesce a curare tutti i suoi malati di covid, sono i numeri forniti dal direttore della Cross di Pistoia. 13 pazienti trasportati dal Molise in ospedali di fuori regione, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Campania e Puglia, attivando la centrale remota operazioni soccorso sanitario, che secondo il principio di solidarietà permette alla regione, con i reparti saturi, di avvalersi delle terapie intensive di altri ospedali. Nella prima ondata dell'epidemia, le parole di Piero Paolini, la Cross era stata attivata solo per la Lombardia ed in meno di un mese furono trasferiti 116 pazienti, di cui 38 all'estero in Germania. Nella seconda ondata, la richiesta è stata invece più parcellizzata, ma è stato il Molise la regione che ha avuto i numeri più grandi, i numeri rapportati ovviamente al numero degli abitanti. Allora parliamo di vaccini, vaccini AstraZeneca via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco. appunto al vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri, lo afferma la direttrice di Emma Emer Cook, argomentando il via libera al vaccino nella conferenza stampa. I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata e anche AIFA rende noto che sono venute meno le ragioni alla base del divieto d'uso in via precauzionale dei lotti del vaccino emanato il 15 marzo scorso, pertanto da domani non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano rilascerà il proprio parere AIFA procederà a revocare il divieto d'uso del vaccino AstraZeneca consendendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15 dunque di domani pomeriggio. Cabina di Legia Moliseana al lavoro per riprendere la somministrazione anche in Molise. FISMU, la Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti, chiede che sia solo il governo a gestire la campagna vaccinale mentre Antonio Federico del Movimento 5 Stelle dice che quello di Emma è un segnale importante ora però bisogna accelerare il piano vaccino e puntare su medicina territoriale. Ed oggi si è celebrata la giornata nazionale ricordo delle vittime del Covid-19, minuto di silenzio e bandiera a mezz'asta, il sindaco di Campobasso Gravina ha sottolineato l'importanza dell'evento oggi ci sentiamo meno soli, sono invece le parole dei rappresentanti del Comitato Moliseano delle vittime del Covid-19, Andrea Vertolo. Era il 18 marzo del 2020 quando gli autocarri a Bergamo trasportarono centinaia di bare delle vittime del coronavirus, fu una giornata che in tanti ricorderanno e anche per questo è stato scelto il 18 marzo per ricordare le vittime del Covid-19 anche a Campobasso, bandiera a mezz'asta, minuto di raccoglimento con il sindaco Roberto Gravina che ha voluto ricordare così l'importanza di tale commemorazione. Sicuramente è sentito, più che dovuto, anche perché il presidente De Caro, come l'anno scorso ricorderete, ovviamente siamo tutti provati nell'animo, soprattutto per tutte le persone che hanno visto perdere un proprio caro nelle proprie famiglie, è una situazione che va avanti, ormai c'è oltre alla paura, al timore, c'è anche adesso il desiderio di ritornare alla normalità, però era chiaro un momento di riflessione oggi proprio per ricordare tutti coloro che adesso non ce l'hanno fatta e soprattutto di coloro che ancora oggi soffrono, sapete anche la situazione che abbiamo, stiamo vivendo in Regione e quindi è ancora più sentito. La situazione di Campobasso si mantiene stabile, quindi non abbiamo grandi incrementi, veniamo da due giorni con zero positività, ieri c'è stato appunto un ritorno, quindi di un numero di tamponi mi pare 14, però è chiaro che dipende un po' dalla situazione e di come stanno tracciando questi soggetti, ma ribadisco la situazione per fortuna è assolutamente normale in linea con i numeri che abbiamo avuto fino adesso. Ecco, Sindaco, giornata del ricordo di solito serve per ricordare, oggi si vive in realtà la pandemia, quindi servirà magari in futuro ricordare non soltanto le vittime, ma anche quello che magari l'umanità tutta poteva fare. Sì, se ne discute, mi sembra che appunto ci sia già una proposta in tal senso, quindi per istituire proprio una giornata del ricordo delle vittime della pandemia, anche perché ovviamente sarà una giornata che in qualche modo accomuna tutti i paesi del mondo, le pandemie sono appunto tali e quindi oggi è un piccolo passo nella direzione che credo poi sarà raggiunta. Oggi ci sentiamo meno soli nel dramma che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, dicono dal Comitato Molisano, vittime del Covid-19, essenziale per noi ricordare e celebrare tutti insieme i nostri cari che purtroppo nei momenti di maggiore sofferenza non sono stati adeguatamente curati, assistiti né degnamente salutati. Tutto questo in quanto familiari delle vittime ci ha profondamente segnati, feriti, traumatizzati e indignati. Perdere i propri cari è sempre doloroso, ma perderli in un modo così assurdo e crudele lo è ancora di più. Parole queste dei familiari delle vittime che mostrano meglio di altre il dolore che tanti italiani hanno dovuto conoscere. Oggi tutti si stringono a loro in silenzio, ma continuando a lottare in una battaglia ancora lontana dalla fine. Ed ora il messaggio del Presidente della Regione Donato Toma. Abbiamo impresso e nella le tristi immagini dello scorso anno quando a Bergamo gli otto mezzi dell'esercito portarono via decine e decine di bare. Un bel, scusatemi, un colpo al cuore, una ferita per tutti gli italiani. In questi ultimi mesi purtroppo anche nel nostro Molise tanti corregionali ci hanno lasciato. Molti di noi hanno perso amici, colleghi di lavoro, familiari, senza la possibilità di poter stare loro accanto nelle ultime ore di vita. Le istituzioni devono profondere il massimo impegno per uscire nel più breve tempo possibile da questa pandemia. E poi, aggiunge Toma, non è il momento delle polemiche. Bisogna agire tutti insieme per venire fuori al più presto da questo incubo. Una bella notizia. Giuseppina Mucilli, 107 anni, tra le donne più anziane del Molise. È stata vaccinata questa mattina dai carabinieri di Isernia. È una battaglia condotta da teleregione nelle ultime settimane che è stata raccolta dai vertici dell'Asrem. La vaccinazione è avvenuta con la presenza delle nostre telecamere. Sentite Nicola De Santis. Giuseppina Mucilli ha superato due guerre mondiali. È sopravvissuta la spagnola e a 107 anni attendeva la vaccinazione contro il Covid per superare anche questa pandemia, se vogliamo una sorta di terza guerra mondiale. La richiesta di vaccinazione domiciliare è stata inoltrata inizio febbraio. Purtroppo però, a causa dell'eccesso di richieste e della mancanza di materia prima, la signora Giuseppina non aveva ancora ricevuto la prima dose. I vertici dell'arma dei carabinieri si sono allora attivati e questa mattina una equip dall'auditorium ha raggiunto l'abitazione della nonnina nella vicinissima via Iorio. La famiglia della signora Mucilli ha accolto con commozione gli uomini in divisa. Dopo l'anamnesi di rito, il medico ha inoculato una dose di Moderna, poi 15 minuti di attesa per eventuali controindicazioni e l'abbraccio finale liberatorio tra tutti i familiari. Una giornata storica sia per l'arma dei carabinieri sia per la famiglia del Cioppo Mucilli. Veramente stiamo trattenendo le lacrime perché una cosa del genere da parte dell'arma dei carabinieri che ha preso a cuore tanto il problema che non ha, ci ha veramente commosso e poi la rapidità in cui sono intervenuti e ci ha veramente commosso. Spero, quindi ringrazio tantissimo a profondo del cuore veramente, specialmente oggi una giornata così importante sia per nonna che per tutta l'Italia. Se Dio vuole, con tutti i dovuti scongiuri, speriamo che non la possiate ripetere un'altra osta in televisione, con la seconda dose già fatta e con una bella torta di cantellini davanti. Auguri a Giuseppina. Ora il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con analisi su andamento epidemia, forniture e somministrazione dei vaccini. Il Molise nella settimana 10-16 marzo risulta in miglioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si registra una diminuzione dei nuovi casi, variazione percentuale pari a meno 14,6% rispetto alla settimana precedente. Sopra soia di saturazione invece posti letto in area medica e terapia intensiva. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3,67%, media Italia 3,6%. La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 12,2%, media Italia 10,6%. I tamponi prelevati oggi verranno sequenziati in Molise. I risultati giovedì o venerdì prossimo avremo una fotografia puntuale della situazione in regione ha detto il responsabile della microbiologia del Cardarelli di Campobasso, il dottore Massimiliano Scutellà. Sentite. I tamponi processati oggi in Molise verranno sequenziati nei prossimi giorni nel laboratorio analisi del Cardarelli di Campobasso. I risultati verranno poi inviati a Roma a disposizione dell'Istituto Superiore di Sanità. Avremo la fotografia puntuale della situazione in Molise spiega a te la regione il responsabile della microbiologia del Cardarelli, il dottore Massimiliano Scutellà. Il sequenziamento dei tamponi odierni prelevati su tutto il territorio regionale permetterà di individuare tutte le varianti eventualmente presenti, non solo quelle inglese. Fino a ieri esami venivano effettuati a Teramo perché il Molise era sprovvisto del macchinario che ora è nella disponibilità dei microbiologi molisani. La calibratura, poi le prove, infine la validazione e il collaudo dello strumento. Ci verranno alcuni giorni. Nel frattempo, aggiunge Scutellà, inizieremo a trattare e processare i tamponi di oggi, poi il sequenziamento con i primi risultati che potrebbero arrivare mercoledì o giovedì prossimo, quando capiremo quali e quante varianti ci sono in regione, se c'è solo quelle inglese o se hanno trovato spazio pure quelle sudafricana e brasiliana. Varianti da intercettare con screening di massa, elemento indispensabile per il tracciamento, ma attenzione ai tamponi rapidi. Non tutti riconoscono le varianti. Il Ministero, conclude Scutellà, ha divulgato la lista dei più efficaci. Patto di legislatura e cambio in giunta con l'ingresso di Filomena Calenda al posto di Michele Marone. Calenda si occuperà di lavoro e di lavoratori della GAM. Sono preoccupati e disorientati, per questo hanno scritto il Presidente della Regione Donato Toma e all'amministratore unico di GAM, Giulio Berchicci, chiedendo un incontro urgente. Incontro che deve essere finalizzato a rilanciare le attività della filiera e alla messa in sicurezza dei lavoratori. Buona poltrona all'assessore Calenda, basta valutare solo agire o tutti a casa. Leggo in queste ore del nuovo rimpasto di giunta del Governo Toma, a dire il vero l'ennesimo, è sempre con oggetto tra le altre la delega al lavoro, sicuramente tra le più ostiche da gestire. Così Pasquale Guarracino, segretario generale della Wiltux Molise, una istituzione, quella regionale, che impiega tempo prezioso per occuparsi solo di faccende che nulla hanno a che fare con le problematiche dei molisani, che si disinteressa dei diritti inviorabili dei suoi cittadini, da quello alla salute e al sacrosanto diritto al lavoro. Mai nella storia del Molise, l'esecutivo regionale ha vissuto così tanti cambiamenti come in questa legislatura. Quali sono le merci di scambio? Deleghe complicate, qual è quella del lavoro e quella alle politiche sociali? Il terzo settore, tutti i ambiti in cui l'immobilismo di questo Governo regionale ha regnato sovrano, conclude Pasquale Guarracino, segretario generale della Wiltux Molise. Dell'emergenza sanitaria, ma anche di quella economica e dei nuovi risvolti politici si parlerà nel corso di domani sera con conto alla rovescia. Le anticipazioni ce le fornisce il conduttore Pasquale Damiani. Sentite. Colpi di scena in Consiglio regionale. Undici consiglieri firmano la mozione di sfiducia al Presidente Toma. Una notizia che è deflagrata persino negli ambienti politici romani. Una vera e propria bomba. Una mozione firmata non solo dagli otto consiglieri della minoranza che fanno per intero il loro dovere, ma anche da tre consiglieri di centrodestra, di cui due esponenti di Fratelli d'Italia, Michele Iorio e Aida Romagnolo e Filomena Calenda del gruppo Misto. Quest'ultima usa parole molto dure in aula. Poniamo fine a questo indegno spettacolo. Così ha detto le testuali parole, salvo poi a rimangiarsi tutto nel breve volgere di qualche ora, quando Toma le prospetta di diventare assessore regionale al posto di Michele Marone, che diventa così la vittima sacrificale di una vicenda che ha poco a che vedere con la politica. Una crisi lampo che vede Toma restare dunque in sella. Di fronte a un quadro del genere, pur con tutte le buone intenzioni del caso, faremo alcune riflessioni sulla coerenza della politica. Tutto si può dire e tutto si può smentire nell'arco di poche ore. Bene, domani sera contro la Roescia faremo luce su tanti aspetti. Anche la posizione di Aida Romagnolo, che domani andrà a Roma per un incontro con i vertici di Fratelli d'Italia. Questo accade ai tempi della Terza Repubblica, facendo rimpiangere quelli della prima. E poi c'è il nuovo percorso al Cardarelli, del centro Covid, perché si ritarda a realizzarlo. La nomina del nuovo commissario della sanità in Molise apre un ampio dibattito tra i partiti. I posti in terapia intensiva, il ruolo dei medici di base. Di questo e di altro ci occuperemo nel corso della puntata di Conto alla Rovescia, in onda domani sera alle ore 21 su questa rete. Tanti contributi esterni, anche con una serie di inchieste tra i cittadini, tra cui anche la protesta dei comitati che alzano la voce davanti alla sede del Consiglio regionale. Ospiti il segretario regionale del Partito Democratico, nonché consigliere regionale Vittorino Facciolla, il dottore Ernesto Lavecchia, coordinatore regionale Fismu Molise, rappresentanza dei medici di base, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola e l'ex assessore Michele Marone, che certamente si toglierà qualche sassolino dalle scarpe. Vi aspetto domani sera alle ore 21 su questa rete con Conto alla Rovescia. Molte proteste in Molise da parte di cittadini che non riescono a contattare il call center attivato dalla regione per avere informazioni sulla campagna vaccinale. Sono tantissime le persone che segnalano le enormi difficoltà incontrate per prendere la linea, quasi sempre occupata probabilmente per le tante chiamate in arrivo. La regione tende di correre ai ripari invitando i cittadini a consultare anche la sezione delle fac. Le nuove fac appena inserite spiega il consigliere regionale delegato alla digitalizzazione Andrea Dilucente e cercano di rispondere alle domande di una grossa fetta di popolazione, in particolare di chi ha già manifestato la propria adesione alla campagna vaccinale. Sempre Dilucente ricorda poi che la campagna vaccinale è suscettibile di modifiche costanti e dipende da una serie di variabili, l'arrivo meno di vaccini e in quale quantità, lo sblocco meno delle dosi di AstraZeneca. Come avete sentito in apertura di telegiornale sono state sbloccate a partire da domani alle 15. Le indicazioni del commissario, del ministro della salute e poi in base a queste variabili prosegue le tempistiche fornite nelle fac potrebbero cambiare così come alcune modalità. Ne verrà comunque data ampia comunicazione. Dice Dilucente vorrei ricordare a tutti i molisani che la piattaforma è in continua costruzione e tante delle domande che vengono poste al call center oppure che le persone hanno in mente possono essere reperite nella sezione apposita. Consigliamo quindi di monitorarla per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Non c'è solo l'emergenza sanitaria ma anche quella economica. L'associazione mio movimento italiano dell'ospitalità è sul piede di guerra. Vediamo perché nel servizio. Il Molise nelle ultime settimane vive un momento di straordinaria emergenza. Non soltanto di natura sanitaria si aggrava anche la condizione socio economica di famiglie e imprese. A denunciarlo è l'associazione mio movimento italiano dell'ospitalità che raggruppa 160 ristoratori ed esercenti che a distanza di dieci mesi dalle prime proteste torna a farsi sentire in modo vibrante. Lo fa l'indomani dell'ennesima crisi politica della regione evidenziando come rappresentanti istituzionali bene farebbero a pensare alle sorti del territorio a tutti i livelli. La zona rossa che è stata decretata a febbraio in basso Molise è poi estesa in tutta la regione ci ha messo letteralmente in ginocchio, si legge nel documento, dopo un anno di chiusure e riaperture contingentate. Ormai dall'autunno 2020 cerchiamo di sopravvivere ma i segnali che provengono dalle istituzioni e dalla politica è di lontananza assoluta dall'economia reale. Siamo stufi di giochetti, balletti e teatrini che fanno solo perdere tempo tanto a livello nazionale quanto locale. Non si sta dando il peso giusto alle enormi difficoltà in cui ci dibattiamo noi imprenditori privati alla fine della pandemia resteranno solo macerie se non si interverrà con intelligenza e lungimiranza. Due obiettivi complementari da raggiungere la tutela della salute e la messa in sicurezza di imprese e famiglie. Non vogliamo più sentire parlare di poltrone spiegano i rappresentanti dell'associazione ma di sostegno, di aiuti concreti, partiti ed eletti se ne facciano una ragione altrimenti non ci sarà più nulla da amministrare dopo il covid. Sembramenti di giovani a Campobasso alcuni cittadini hanno chiamato il 113 giunti sul posto. Gli uomini della squadra a volante hanno riscontrato l'effettiva presenza di un gruppo di ragazzi che pensando di sfuggire all'attenzione dei residenti si erano riuniti in una via secondaria del centro cittadino senza alcun rispetto del distanziamento tra persone in totale violazione del divieto di uscire dalla propria abitazione se non per un giustificato motivo come previsto attualmente per le regioni in zona rossa. Gli agenti hanno pertanto proceduto ad identificare 10 giovani sanzionandoli ai sensi della vicenda normativa anti covid. Uno di essi dà certamente risultato anche minorenne e dunque è stata richiesta sul posto la presenza di uno dei due genitori ai quali il ragazzo è stato riaffidato. Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, la numero 19 del 9 marzo, è stato pubblicato il concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e auronavale all'Accademia della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2021-22. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le 12 dell'8 aprile 2021 e riguardare uno solo dei predetti comparti specializzazioni. Possono partecipare al concorso cittadini che abbiano alla data del 1 gennaio 2021 compiuto il 17esimo anno di età e non superato il giorno del compimento del 22esimo anno di età siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale concorsi.gdf.gov.it. Si tratta di un'occasione importante per tutti i giovani molisani, ha dichiarato il comandante provinciale Vito Simeone che ha invitato a non sottovalutare l'opportunità lavorativa fornita dal concorso. Parliamo di turismo, un progetto internazionale proprio sul turismo per mettere in rete le eccellenze del territorio molisano. Nonostante la crisi sanitaria ed economica la nostra regione prova a ripartire e ad investire sul futuro. Nicola De Santis. Dal Welcome Travel Group, network che opera nella distribuzione turistica con oltre 2.500 punti vendita sparsi su tutte le province italiane di proprietà di Costa Crociere ed Alpi Tour World, nasce il progetto Welcome to Italy. Si tratta di un portale in grado di mettere in rete gratuitamente tutte le eccellenze di ogni singolo territorio. Una vera e propria rivoluzione culturale nel mondo del turismo. Il locale diviene digitale attraverso il Local Expert, figura professionale di riferimento per ogni singola regione, con il coinvolgimento delle agenzie di Welcome Travel. In sintesi, un turista che approda in Molise attraverso il portale Welcome to Italy sa già che sul nostro territorio troverà l'eccellenza della nostra regione dal Caciocavallo di Capracotta al Tartufo di San Pietravellana, dagli scavi di Altilia, al Paleolitico di Sernia. Riferimento per Abruzzo e Molise di questo progetto di respiro internazionale è la famiglia di Carlo, titolare della Pentriatur che per prima ha aderito alla nuova piattaforma. In piena pandemia, con il turismo praticamente fermo ed i fatturati delle aziende del settore che sono stati azzerati, investire sul futuro sembra una follia, eppure la famiglia di Carlo ha la certezza di poter risollevare le sorti della nostra regione, partendo proprio dal turismo, come conferma Irene Di Carlo, regional manager del progetto Welcome to Italy. Allora, abbiamo pensato di portare avanti questo progetto per risollevare un po' il Molise, per promuovere il Molise, nonostante il periodo di crisi, nonostante dunque questo periodo, abbiamo pensato di coinvolgere un po' tutti gli operatori del settore, quindi che possono essere le guide, i ristoranti o comunque chi appunto può contribuire a far conoscere la nostra regione, nonostante il periodo insomma non proprio molto semplice. È un progetto portato avanti con nomi del calibro di Alpitour e di Costa Crociere e appunto si usufruisce di una piattaforma dove verranno inserite tutte le esperienze che si possono fare nella nostra regione, tutto ciò che si può far conoscere e dove dunque potranno partecipare tutti gli operatori del settore. Per chi volesse aderire è gratuito, nel senso che l'investimento è stato fatto da noi, quindi c'è proprio la volontà di promuovere il Molise e saremo ben lieti di farlo insieme a chi sarà interessato a perseguire questo obiettivo. Bene, è davvero tutto, questo era il nostro ultimo servizio, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per venerdì 19 marzo, avvio di giornata discreto sulla regione, tendenza al peggioramento in serata con precipitazioni sparse, venti deboli, mare mosso, queste le temperature nel dettaglio, campo basso 1, 4, Isernia 0,8, Termoli 4, 10, Venafro 3, 8 gradi. Tutto per questa edizione, grazie per averci scelto, linea alla regia tra pochissimo la pagina sportiva. Siamo allo sport, al calcio di Serie D, parliamo del campo basso, parliamo in particolare dei giovani della formazione rosso-blu, domenica ha giocato e anche bene un classe 2003 di Isernia, si tratta di Angelo Mancini che poi si è presentato anche in sala stampa, sentite cosa ha detto ai nostri microfoni. Sono onorato di far parte di questa squadra perché è davvero un gruppo straordinario e niente, sono felicissimo di poter giocare con loro, poter vincere e soffrire con loro. È bello giocare al fianco di questi compagni, sono veramente eccezionali e quindi il mio ingresso nella squadra è stato molto più semplice grazie a loro. E un classe 2003 ma alla sfrontatezza del veterano, Cudini può contare anche i suoi giovani molisani, sotto i riflettori c'è Angelo Mancini, Isernino, cresciuto nella scuola calcio San Leucio e da quest'anno in forza ai rosso-blu. Prima la Juniores, poi nel corso della stagione il passaggio in prima squadra, scampoli di partite e domenica scorsa l'ingresso in campo contro l'Ari Canatese sul finire del primo tempo. Ho dato tutto perché comunque devo sfruttare al meglio queste opportunità e sono contento della vittoria. Prima mezzala, poi in un centrocampo a due, stesso risultato, prestazione solida e compito svolto con grande diligenza. La partita l'avevamo preparata, io comunque avevo preparato quel ruolo e quindi penso di aver fatto tutto quello che mi aveva chiesto il mister già da questa settimana e ho fatto all'inizio la mezzala, poi siamo passati con il centrocampo a due e ho fatto quello che mi ha chiesto. E a proposito di giovani, il Campobasso siede in forza con Antonio Oliva, portiere classe 2000, proveniente dal Sorrento, ha firmato in queste ore l'accordo che lo legherà alla società per la stagione in corso. Cresciuto nel Taranto, squadra della sua città natale, ha esordito in Serie D con il Rotonda per poi vestire le maglie del Messina e del Sorrento. E a proposito del Campobasso vi proponiamo le prime dichiarazioni di Daniela Mancinelli, nuovo componente del Consiglio di amministrazione della società Rosso Blu, si è collegata con noi da New York, l'ha intervistata Franco Presutti, sentite. Abbiamo il piacere di avere Daniela Mancinelli, che da poco fa parte del CDA, Consiglio di amministrazione della società sportiva Campobasso, della SS Città di Campobasso, collegata con noi da New York. Daniela, grazie per questo collegamento, grazie per la disponibilità. Grazie a te Francesco per l'opportunità di essere qui oggi. Bene, ecco, una donna finalmente nella società Rosso Blu. Mario Gesuè ha avuto bellissime parole nei tuoi confronti. Sei davvero in gamba, sei tra l'altro amministratore delegato della N6A, la società. Da quanti anni lavori presso questa società, Daniela? Sì, sono sei anni che lavoro con N6A. N6A è un'agenzia di marketing e comunicazione, infatti per questo sono sei anni che lavoro con Matt Rizzetta e abbiamo lavorato duramente per costruire un'attività di comunicazione e di successo con una grande cultura del lavoro, e Matt ha sempre sognato di comprare una squadra di calcio italiana e io sono davvero felice e contenta di avere l'opportunità di aiutarlo. Chiudiamo parlando di basket, basket di serie A1 femminile, parliamo della Magnola Campobasso, ascoltiamo le dichiarazioni di Emilia Bove, pivot della formazione Rosso Blu e protagonista dell'ultima affermazione della squadra di Mimmo Sabatelli. L'ha intervistata Franco Presutti, sentite. Emilia, inutile che ti chiedo se sei soddisfatta perché si vede dal volto. Dicevo prima con il coach, con Mimmo, negli ultimi secondi mi è tornato in mente quello che era successo con Schio. Cos'è cambiato invece, a parte l'avversario, una certa maturità in più? Sì, però non la chiamerei proprio, diciamo, maturità perché poi comunque con Toschi abbiamo fatto, a mio parere, comunque una bellissima partita anche sotto il punto di vista tecnico e di qualità. Poi lì, punto a punto, diciamo che vai su episodi e purtroppo noi siamo state sfortunate. Oggi invece comunque siamo partite un po' così, soprattutto in difesa. Poi dopo siamo state aggressive anche noi in difesa, le abbiamo messe molto in difficoltà e abbiamo continuato per gli ultimi venti minuti ad essere sempre più aggressive in difesa perché noi troviamo molta energia, soprattutto sta tutta la, secondo me, la nostra energia perché poi dopo riusciamo a fare un attacco e realizzare all'altro lato. Quindi sono molto felice perché ci meritavamo questa vittoria. Senti Emilia, nei primi due periodi, nei primi due quarti avete fatto un po' di errori al tiro, percentuale piuttosto alta di errori. Poi cos'è cambiato? Eravate più tranquille? Avete avuto maggiore consapevolezza della vostra forza? Sì, abbiamo fatto un paio di tiri che siamo state sfortunate. Come ti dicevo prima, noi prendiamo molta energia in difesa. I primi due quarti non è stato così, subivamo noi la loro aggressività. Quando poi abbiamo iniziato a mettere un po' noi, anche noi, le mani addosso ci siamo comunque fatte rispettare sotto Canisto, ci siamo abbastanza anche chiuse in area e abbiamo trovato in attacco, abbiamo trovato i giusti tiri, i piedi a terra. Quindi essendo più serene abbiamo anche realizzato. Ora con 18 punti in classifica, diciamo, si fa interessante questa stagione, purtroppo ancora senza pubblico. Cosa ti aspetti dalla prossima gara in trasferta contro San Martino di Luperi? Comunque è un'altra bellissima e tosta partita che ci aspetta, però noi partita dopo partita stiamo ritrovando sempre di più la nostra identità di squadra. Mi dispiace solo che non abbiamo avuto la possibilità comunque di avere questa identità all'inizio dell'anno perché siamo state un po' sfortunate. Questo non è un alibi, però comunque ci sta perché adesso comunque stiamo andando abbastanza bene. È tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Arrivederci.